Con questo video studentesse e studenti saranno guidati nella registrazione del portale dell'alternanza scuola lavoro. Per prima cosa attiviamo il nostro browser e digitiamo l'indirizzo alternanza.miur.gov.it Per accedere alle funzioni della piattaforma clicchiamo su inizia subito. Qui al centro studentesse e studenti, che utente sei ovviamente studentessa o studente. Non avendo ancora le credenziali per il login, possiamo procedere alla registrazione cliccando su registrati. Registrati al nuovo portale Miur. Verrete reindirizzati in un'altra pagina che ha questo aspetto. La prima cosa da fare è inserire il proprio codice fiscale. Dopo aver inserito il codice fiscale, clicchiamo su non sono un robot. Per continuare, clicchiamo su passaggio 2. Si presenta una nuova finestra dove lo studente dovrà inserire il nome, il cognome, data di nascita, nazione di nascita, regione di nascita e così via. Provincia di nascita, comune di nascita. Selezionare il sesso. Attenzione inserire l'email istituzionale, quindi nome e cognome dello studente.stud.vesfucci.edu.it Accettare i termini e le condizioni e prendere visione del trattamento dei dati personali, come specificato nell'informativa sulla privacy. Cliccare sul passaggio 3. Al terzo passaggio occorre solamente rivedere i propri dati e, se sono corretti, confermarli. Infine, l'ultimo passaggio indica che ci siamo quasi. La registrazione è quasi completa, ma per farlo occorre prima andare sul proprio account di posta e risalire alla mail che ci è stata inviata automaticamente cliccando sul link per confermare la registrazione. Attenzione che la mail potrebbe essere finita nello spam, quindi cercare attentamente. La mail arriva sicuramente. Cerchiamo dunque tra le nostre email e troveremo un messaggio come questo. Basterà allora cliccare sul link in blu. Dopo aver fatto clic, una pagina di cortesia ci rassicura che l'indirizzo email è stato verificato. A questo punto clicchiamo su Continua e verremo reindirizzati sulla solita pagina dell'alternanza. A questo punto andiamo su Accedi e controlliamo la nostra casella postale. Avremo sicuramente ricevuto username e password per poter fare il primo accesso. Come vedete nella nostra mail avremo ricevuto una username ed una password. Entriamo con queste credenziali. Abbiamo inserito le nostre credenziali e adesso clicchiamo su Entra. Come vedete il sistema mi chiede il cambio password. Clicco su My nel caso mi si chiedesse di salvare la password e clicco su Modifica password. Dunque inseriamo la password che ci è stata inviata e inseriamo una nuova password facendo attenzione di inserire una password che possa rispondere a quelli che sono i requisiti per una password forte e robusta. Eccoli. Scegliamo la nostra password e inseriamola nel primo box e per conferma anche nel secondo. E clicchiamo su Invia. Il sistema mi informa che la password è stata modificata con successo e possiamo continuare la navigazione. Accediamo dunque alla nostra pagina e selezioniamo il profilo ed eccoci all'interno della pagina personalizzata col nome e cognome, ruolo, istituto e codice meccanografico della scuola. A questo punto è possibile utilizzare le funzioni del portale. Il sistema mi informa che la password è la scuola. Il sistema mi informa che la password è la scuola. A questo punto è possibile utilizzare le funzioni del portale.